La presidenza del Consiglio regionale del Molise ha aderito alla campagna informativa Obesity Day per la prevenzione dell'obesità infantile. Ieri pomeriggio la presentazione di un opuscolo informativo rivolto agli allunni degli istituti scolastici. Vediamo. Presidente Vincenzo Cotugno, una corretta alimentazione per le nuove generazioni, questo anche per rilanciare l'importanza del mangiare molisano. Assolutamente poche regole, 10 regole per vivere meglio mangiando molisano, quindi un lancio dei prodotti molisani a chilometro zero, io dico aiuta a vivere meglio. E' un decalogo che arriverà in tutte le scuole della regione molise per arrivare in tutte le famiglie della regione molise per una cultura proprio di mangiare meglio, per vivere meglio. Il cibo regionale diventa quindi anche un veicolo di cultura e tradizioni, anche questo significa saluta? Sicuramente noi abbiamo una grande cultura e una grossa tradizione di eccellenze dell'agroalimentare, il molise che produce mi ha portato a visitare tantissime aziende molisane dove i prodotti sono di grande eccellenza. Noi abbiamo il dovere, io dico come istituzione il dovere di veicolare alla grande quello che il molise sa produrre e sa produrre prodotti di grande eccellenza. Dottoressa Sabatini, il MIUR stila nuove linee guida per la correttezza dell'alimentazione dei bambini e delle nuove generazioni? Sì, delle linee guida importanti che partono dall'evento di Expo che ha riguardato l'Italia ma che ovviamente hanno una proiezione temporale molto più ampia che vogliono andare ad incidere su quelle che appunto sono le sane abitudini alimentari delle famiglie a partire dai più piccoli facendo leva non solo sulla loro particolare permeabilità e disponibilità anche a cambiare le abitudini proprio perché sono piccoli ma soprattutto sulla loro forza di fare opinione all'interno delle famiglie. L'ufficio scolastico regionale del molise è dunque sempre vicino a problematiche di questo tipo tanto che assieme alla presidenza del consiglio regionale divulga uno puscolo che verrà distribuito in tutte le scuole. Attraverso la diffusione di questo puscolo per cui ringraziamo lo spunto della presidenza del consiglio regionale vogliamo entrare nelle famiglie per modificare gli stili alimentari attraverso delle piccole indicazioni.